Il pavimento che torna all'antico splendore ed è capace di dare nuova luce all'interno della Basilica di Sant'Ubaldo, grazie a un benefattore che resta anonimo, grazie all'intervento realizzato da un'impresa locale, grazie ai numerosi volontari che per diversi giorni hanno prestato la propria opera per consentire la realizzazione di un intervento che pur nella sua semplicità è di efficacia tale da rendere più luminosa e splendente quella che è una fase di attesa e avvicinamento alla ricorrenza, in cui si celebra il patrono di Gubbio, attesa segnata nel maggio Gubbino da un calendario serrato di significativi appuntamenti. Antico splendore che già da oggi può essere sotto gli occhi di tutti, a Gubbini e turisti numerosi ogni giorno, particolarmente soddisfatto il rettore Don Fausto Panfili. È un ritocco finale alla Basilica, dalle luci al pavimento, è stato un bravo benefattore che ci ha permesso di fare questo e si vede veramente, è ritornato l'antico splendore del pavimento, questo rosso con il giallo, proprio il segno un po' di Sant'Ubaldo. La luce che emana, ma anche la bellezza, la pulizia, ci permette veramente di notare il lavoro stupendo che hanno fatto una ditta qui di Gubbio, PoliSystem, per poter sistemare la nostra Basilica. Il risultato finale dà maggiore luminosità anche alla chiesa e anche per il sonoro si sente meglio perché permette una maggiore vibrazione. Tutte queste cose devo ringraziare anche le persone che sono venute in 21 giorni per portare fuori le panche, per riportare dentro, per pulire. Stiamo finendo proprio in questo momento. Grazie veramente per la Santa Pasqua, con le pulizie generali in preparazione alla Pasqua.